L'impatto iniziale è stato molto positivo sia a livello societario, a livello di minister, staff, tutto e compagni di squadra ovviamente, sono arrivato in una piazza importante, forse non dico magari la più importante ma una tra le più importanti di Lega Pro e l'impatto è stato buono. Il motivo per il quale ho detto di sì è abbastanza facile ovviamente perché Pescara è una realtà molto importante, è sempre stata una realtà molto importante che oggi si trova in Lega Pro però sappiamo tutti che si merita palcoscenici più importanti di questo e il fatto che mi ha spinto a dire sì è appunto la piazza e soprattutto il volere della società che mi ha voluto fin da subito, fin dai primi giorni di mercato, anche qualche giorno prima forse avevo sentito qualche interessamento. La preparazione del minister se non si può dire che sia leggera, anzi forse è l'opposto, però è giusto perché sono delle idee che lavoro paghi quindi di conseguenza ci consentirà di magari entrare in forma un pochetto dopo ma comunque quando entriamo in forma di essere più performanti sotto il livello fisico rispetto alle altre squadre è molto tosta comunque. Sono un terzino, quinto, più propenso alla fase offensiva che quella difensiva e quindi mi piace molto attaccare, molto crossare, fare questo tipo di gioco qui. Sono veloce e sono più offensivo che difensivo. Sono uno stimolo perché questo conferma appunto il valore della piazza e il valore della società nella quale sono e ne faccio parte adesso. Ovviamente l'obiettivo è arrivare almeno a una categoria superiore sperando di arrivarci col Pescara. Di obiettivi non abbiamo ancora parlato, dovremo parlarne, ovviamente non sarà un obiettivo di dire salviamoci come ci si può aspettare proprio per la piazza e la società che è. Ovviamente noi lavoriamo anche senza obiettivi per arrivare più in alto possibile, per cercare di portare il nome di Pescara e della città di Pescara più in alto rispetto a dove si trova ora.